L'arte che abbraccia lo sport e viceversa. Accadrà di nuovo lunedì sera alle 20.30 al Palace Allende per l'edizione numero 3 del Gran Galà, l'arte premia il merito sportivo. In nome di un'affinità di cui la leggiadria di certe performance tecniche ed atletiche rende perfettamente il senso, verranno consegnate a 9 società sportive e a 16 giovani talenti, opere concepite da artisti delle più diverse estrazioni e provenienza. In tutto 34 i riconoscimenti e vetrina per alcune eccellenze olimpiche, pescando anche in questo ambito a piene mani nel ricco panorama marchigiano. Tra gli ospiti l'ex CT della Nazionale Femminile di Pallavolo, Davide Mazzanti, ora allenatore di Trento, e l'ex campionessa Tatiana Cosceleva. In programma anche alcune esibizioni live e la proiezione di video nel corso dell'evento, promosso dalla stanza della poesia. Apparentemente sembrano due monti distinti, c'è l'arte e lo sport. In realtà invece non solo hanno molto, tantissimi in comune, tipo accompagnati tutti e due questi elementi dal talento, nasce dal talento come l'arte, anche nello sport c'è il talento, tant'è che la premiazione va a premiare proprio il talento, quindi da talento al talento. Poi c'è la passione, c'è la disciplina, c'è l'estro, cioè sono tutti elementi che compongono poi un elemento unico con l'arte, ma non solo, diciamo lo sport, ovviamente anche tante altre discipline essenziali alla vita civile di un paese ha a che fare con questi elementi della disciplina, dell'estro e del talento, questo sì. L'arte si avvicina ancora di più proprio perché c'è una gestualità dai colori, da una forza enorme e quindi di conseguenza ci ho visto, poi sono appassionato di arte e quindi mi ha spinto molto verso questo mondo che anche qui mi vede molto, molto appassionato e partecipe. Ampli alla platea degli artisti che hanno aderito a questa iniziativa. In questo evento gli artisti che hanno aderito a questo progetto qua sono ben 28, ma provenienti da tutta Italia, quindi veramente sono orgoglioso di questa loro adesione. Quest'anno particolarmente si evince anche dal manifesto, il nome dell'artista al cui ho tratto il manifesto, anzi sono due manifesti, è Gesine Arpis, il quale quest'anno ha inteso fare una mostra alla vigile delle Olimpiadi in funzione proprio dello sport. Quindi in qualche modo, avendo lei stessa partecipata all'edizione precedente, si è in qualche modo lasciato contaminare da questo elemento, l'elemento sportivo, la gestualità. Quindi pur mantenendo il suo profilo artistico immutabile, ha inteso dargli un'interpretazione di tipo sportivo. Per cui, come lei, che qui ne ho tratto il manifesto iniziale, tanti altri artisti hanno scelto loro stessi la disciplina da premiare in funzione proprio del gesto atletico. Grazie per la visione!